Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e oggi vi parlerò degli appennini. Questo lavoro, prima di farvelo vedere, l'ho fatto su Drive. Gli appennini. Gli appennini sono il gruppo di catene montuose più lunghe d'Italia. Praticamente sarebbero la spina dorsale dello stivale, ovvero l'Italia. Il monte con la vetta più elevata è il Gran Sasso, che si trova appunto nell'appennino centrale, di 2912 metri. Beh, non hanno cimeaguzze come quelle delle Alpi, ma si dividono in centrale, settentrionale e meridionale. Il Corno Grande. Come vi stavo dicendo, il Gran Sasso è il monte più alto degli appennini. Il terreno è brullo. Nel Gran Sasso, anche se è più basso dei monti delle Alpi, c'è sempre la neve. Qui si può ammirare l'unico ghiacciaio degli appennini, il Calderone. Il Calderone. Il ghiacciaio del Calderone è uno dei punti più alti del Gran Sasso. È l'unico ghiacciaio degli appennini, come vi stavo dicendo. Un ghiacciaio sarebbe una grande massa di ghiaccio che si mantiene grazie alle nevi perenni. Qui possiamo vedere gli appennini che partono dall'Alcole di Calibona alla Sicilia. Alla Sicilia. Quindi dall'Alcole di Calibona alla Sicilia. E voi vi domanderete, ma il Gran Sasso non è il monte più alto di tutti? È l'Etna. Ma no, perché l'Etna, in un senso, sta barando l'Etna. Ma comunque, torniamo alla catena montosa degli appennini. Qui troviamo il Colle di Calibona e per ultimo i monti della Sicilia. Come potete vedere c'è un monte più alto del Gran Sasso. Quello è l'Etna. 3326 metri, ragazzi. E il Gran Sasso, la montagna che unisce. Qui possiamo vedere il video. Dove si trovano tutte le cose fantastiche del Gran Sasso. Come la funivia qui, vedete? Io sono stato proprio qua. Come si dì, questo video si è trovato dalla provincia di Teramo, che si intitola Gran Sasso, la montagna che unisce. La montagna che unisce. Come ben sapete, l'Etna, beh, è un vulcano appenninico, ma lo possiamo giudicare la vetta più alta degli appennini? Gran Sasso vs Etna. Il Gran Sasso, regione Abruzzo, provincia L'Aquila, altezza 2912 metri, catena Monti della Laga, caratteristiche Ghiacciaio Calderone, lago di Campo Tosto. Invece l'Etna della regione della Sicilia, provincia di Catania, altezza 3326 metri, catena Monti, Monti Peloditani e Nebrodi, e caratteristiche Vulcano Scudo e Attivo. Dopo tante ricerche, ho finalmente capito che l'Etna non è il monte più alto degli appennini, perché la sua lavida solida lo aumenta in anno in anno. Questo è il motivo. Scrivete nei commenti se secondo voi è sbagliato, ma secondo me è questo. I Monti della Laga I Monti più alti degli appennini si trovano nei Monti della Laga. Con i suoi 27 chilometri riesce ad ospitare le quattro cime più alte degli appennini. Ma i Monti della Laga si trovano ovviamente in Abruzzo. I Monti Appenninici Gran Sasso Il primo è il Gran Sasso, 2912 metri, poi la Maiella, 2798, il Monte Velino, 2489 metri, Il Monte Vettore, 2479 metri, il Monte Siriente, 2350 metri, e così via. Beh ragazzi, questo è tutto e alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.